Però su una cosa siamo arrabbiati, cari amici, ed è questa. Siamo vicini alla 69esima giornata che l'Italia dedica alle morti sul lavoro e in Italia le morti ci sono ancora. In Italia diminuiscono di poco, ma nel Lazio addirittura aumentano. Vediamo come con Francesco Cuto. Più di 1100 vittime nell'ultimo anno, un elenco in costante aggiornamento, quello delle morti sul lavoro, su cui vuole mantenere alta l'attenzione e l'ANMIR, l'Associazione Nazionale Invalidi del Lavoro. Ma se a livello nazionale il dato è in calo, nel Lazio è in aumento, da 51 a 69 morti. A Rieti e Viterbo cala il totale degli infortuni denunciati. Crescono invece le malattie professionali a livello nazionale e regionale, intorno al 2%. A Roma, Rieti e Viterbo in discesa, ma a Frosinone sono in salita dell'11,7 e a Latina il dato arriva al 13,3. Secondo ANMIR, a incidere su questi numeri è il precariato lavorativo, ma anche l'allungamento dell'età lavorativa, soprattutto in certi settori della produzione, edilizia, agricoltura e metalmeccanica, quelli più esposti. Domenica si svolgerà la 69esima edizione della giornata nazionale per le vittime del lavoro. Fare presto la richiesta che arriva alle istituzioni, per frenare un elenco purtroppo in costante aggiornamento.